buongiorno a tutti e benvenuti a questo webinar di oggi dedicato ai prodotti cosmetici per per animali io sono Sara Palombella appunto e sono la responsabile del settore farmacosmesi all'interno di Buro Veritas Italia e insieme a me quest'oggi interverrà appunto Matteo Zanotti Russo che è il CEO della società Angel Consulting di cosa parleremo oggi oggi faremo una panoramica di due disciplinari rivolti ai prodotti cosmetici per per animali partiremo dal disciplinare Safe Pet Cosmetics faremo un'analisi del contesto di quello che è il quadro normativo di riferimento poi entreremo un po' più nel dettaglio e quindi vedremo quali sono i requisiti del disciplinare e qual è il percorso di certificazione parleremo ancora dei vantaggi quindi degli obiettivi della certificazione Safe Pet Cosmetics e quali sono i vantaggi appunto dell'utilizzo del marchio. Nella seconda parte del webinar parleremo di un altro disciplinare sempre rivolto ai prodotti cosmetici per animali ma con un altro taglio a un'impronta un po' più diciamo dedicata all'ambiente e al biologico quindi parleremo del disciplinare bioecodetergenza IAB. Lasceremo alla fine della nostra presentazione spazio alle vostre domande cercheremo di dare delle risposte se saremo nei tempi insomma in diretto durante il webinar o comunque poi vi risponderemo separatamente successivamente al webinar. Facciamo una piccola presentazione di chi è Buro Veritas. Buro Veritas è una società leader a livello internazionale per quelli che sono i servizi di certificazione controllo e verifica e ad oggi il gruppo Buro Veritas Buro Veritas conta oltre 75.000 dipendenti, 400.000 clienti e nel 2020 ha un fatturato di 4 miliardi e mezzo di euro. Siamo presenti in 140 paesi in tutto il mondo con oltre 1600 uffici e i laboratori. Questa è la ripartizione geografica dei nostri dipendenti del nostro fatturato come potete vedere una fetta importante è presente in Europa quindi il 37% del fatturato della presenza dei dipendenti in Europa seguita dalla zona Asia Pacifico poi Nord America e poi a pari merito sono presenti in America Latina e Africa Medio Orientale. Per quanto riguarda Buro Veritas Italia, Buro Veritas in Italia presente dal 1839 abbiamo 21 uffici dislocati su tutto il territorio nazionale quindi abbiamo una presenza capillare su tutto il territorio. Ad oggi contiamo circa 900 dipendenti, oltre 1000 tecnici e valutatori, oltre 20.000 clienti e il fatturato si aggira intorno ai 111 milioni di euro. Questo è il fatturato del 2020 ripartito per business, il business principale e l'industria con oltre il 36% seguito subito dopo dal settore certificazioni che è il settore di cui noi facciamo parte. Poi abbiamo altri business come edilizia e infrastrutture, prodotti di consumo, marine offshore e settore agroalimentare e materie prime quindi il nostro business è diversificato su più settori. Quindi entriamo nel vivo dell'argomento di oggi, quindi parliamo di cosmetici per animali e partiamo da una introduzione, da una premessa che inquadrerà quello che è il contesto normativo per quanto riguarda questo settore e le criticità legate a questo settore. Quindi passo la parola a Matteo Zanotti che vi presenterà appunto qual è il contesto normativo rispetto al settore dei cosmetici per animali. Bene, grazie, grazie Sara per questa introduzione. Buongiorno a tutti, sono Matteo Zanotti Russo, ringrazio innanzitutto, a parte la collaborazione con Buro Veritas, siamo partner di questo bellissimo progetto, ringrazio il polo della Cosmesi, che conosco peraltro da tanti anni, essendo io un assiduo frequentatore del settore cosmetico nel quale poi di fatto opero. Vi parlerò oggi appunto delle criticità normative dalle quali poi ha preso direzione questo progetto che stiamo sviluppando insieme a Buro Veritas che si chiama Safe Pet Cosmetics. Allora, innanzitutto, quali sono le normative che regolamentano i prodotti cosmetici per animali? Domanda non ovvia, non scontata, perché io verifico quotidianamente, a parte i consumatori che sono assolutamente ignali di cosa circonda questo mondo, vedo anche diversi operatori, professionisti, tolettatori, associazioni di tolettatori, che non hanno bene l'idea chiara di che cosa sia il regolamento, da cosa sono regolamentati i prodotti per animali. Vediamo molto rapidamente com'è la situazione. Intanto una panoramica. Abbiamo prodotti che sono tutelati, o meglio, il consumatore è tutelato nell'utilizzo di prodotti in generale, nel senso che comunque esiste una normativa che indipendentemente dalle categorie specifiche regolamenta i prodotti, i quali devono essere sicuri, devono essere etichettati in modo appropriato, e quello che vediamo nei cosiddetti prodotti di libera vendita. In particolare abbiamo delle normative che regolamentano sia i preparati, che le singole sostanze, non entro nel dettaglio perché sono due mondi, sono due galassie normative, però in breve sintesi abbiamo il CLP, chi ha detto al settore lo conosce molto bene, anche le aziende cosmetiche le conosco bene sia il CLP sia il RIT, perché comunque le devono affrontare per le materie prime e per i semilavorati. E poi abbiamo i prodotti cosmetici, i quali invece hanno una normativa specifica. Andiamo a vedere un pochino perché esistono normative generali e perché esistono normative specifiche. Avanti con la prossima slide. Intanto CLP la conosciamo però, ripassino, cosa significa? Classificazione, etichettatura dei preparati, devo avere il nome, devo avere una simbologia standardizzata con dei pitogrammi, è quello che vedono i detersivi, è quello che vedono la candeggina, è quello che vedono i prodotti che trovo al supermercato. Ho delle avvertenze, quali possono essere i pericoli, i rischi, ho dei riferimenti, quindi ho un'azienda che in qualche maniera ne risponde, no, oltre a la quantità che io sto acquistando per altre ragioni, perché comunque come consumatore devo essere tutelato anche da questo punto di vista. E questo, i prodotti, siano sempre nel modo dei prodotti di libera vendita. Questi sono esempi, ho mascherato soltanto i nomi commerciali, ma giusto per dire, li conosciamo, li vediamo nel bene e nel male, nel senso che avvertono, i pitogrammi sono atti a prevenire problemi, quindi sono fatti per essere visibili e vistosi, e anche un po' impattanti, perché giustamente devono allarmare il consumatore, devono mettere in allerta il consumatore, che può essere in pericolo lui, ma non solo lui, perché come vediamo in questo qui a sinistra, è palese il disegnino, al di là della lettura che comunque deve essere fatta, è evidente che mi faccio male se viene a contatto con le mani, e fa male anche all'ambiente, perché il pesce morto, l'albero secco, sono emblematici, sempre nel mondo dei prodotti generici. Differenze. La differenza che c'è fondamentalmente fra prodotti di libera vendita e le norme specifiche, è che si vanno a sviluppare delle normative specifiche in casi specifici, no? Infatti sono state conseguenti. Un esempio appunto sono i cosmetici. Perché? Perché nel caso dei prodotti chimici, per esempio, chimici intendo candeggina, detergenti per i pavimenti, dei tessili per i piatti. L'attenzione, devo focalizzare l'attenzione del consumatore verso l'uso, no? E il contatto con il consumatore accidentale non è previsto. Cioè, il prodotto chimico, l'alcol per pavimenti che compro al supermercato, non è previsto che io lo utilizzi per mettermelo addosso o spalmarmelo sul corpo, no? Tutte le avvertenze riguardano il contatto accidentale. Quanto deve essere attento il consumatore in proporzione al potenziale pericolo, no? Nel caso dell'alcol per pavimenti, il pericolo maggiore è sicuramente l'infiammabilità. Per cui se io lo spargo in tutta la casa, poi mi fu una bella sigarettina, è chiaro che dopo un minuto sono su TG perché ha preso fuoco il palazzo. Ogni prodotto ha la sua criticità. Maggiore la criticità, maggiori devono essere le precauzioni. E quindi anche le simbologie epitogrammi, sempre nel caso del contatto accidentale, no? Perché non è previsto. Nel caso invece di prodotti come i cosmetici, per esempio, io mi devo muovere in un modo differente perché, e si vede anche dalla struttura normativa, il prodotto nasce per essere applicato, no? Sul corpo, sulla cute, sugli annessi cutanei, cavo orale, organi genitali esterni, no? E questo è l'uso previsto, quindi non posso dire sta attento se no ti bruci. Cioè, il cosmetico per assurdo, poi sicuramente fra di voi ci sono tanti esperti in questo ambito, sanno perfettamente che deve essere sicuro nelle condizioni d'uso normali e ragionevolmente prevedibili e la valutazione della sicurezza che deve essere fatta per il prodotto cosmetico è una valutazione che deve tenere conto dello scenario dispositivo nel lungo termine. Perché io il cosmetico lo compro liberamente se voglio per tutta, finché è in vendita per tutta la vita, no? E me lo applico costantemente. Per via di questo tipo di esposizione è evidente che la normativa generale che prevede il pittogramma sta attento, se ti va sulla mano ti fa il buco, no? Come dice il disegnino, è evidente che è inappropriato, totalmente inappropriato. Oltre a essere norme specifiche adatte, no? Alla vera esposizione al consumatore, ovviamente proprio perché non è un contatto accidentale è proporzionato il tipo di lavoro che deve essere fatto dall'azienda e noi abbiamo il product information file, il PIF, le valutazioni della sicurezza, abbiamo gli allegati, abbiamo tutta un'impalcatura normativa che è assolutamente faraonica in proporzione alla criticità di prodotti nati, studiati, realizzati, distribuiti con l'unico scopo di essere spalmati sulla pelle, intorno agli occhi, dentro alla bocca, costantemente da milioni di consumatori quotidianamente. È tutto in proporzione, ovviamente, cosa ben diversa rispetto a qualcosa che spargo sul pavimento o con cui pulisco i cerchioni della macchina. E in effetti in questa slide, riassumo, obblighi e divieti dettati dal regolamento. Non entriamo nel merito, ma sappiamo molto bene quanti obblighi abbiamo e quanti rischi corriamo. Andando a vedere la legge che determina le sanzioni, l'apparato sanzionatorio è come deve essere inquietante. 9 su 10 delle violazioni citano il penale, lo sappiamo molto bene, o sanzioni molto molto consistenti. Ovvio, prodotti nati per essere comunque diffusi, deve essere utilizzati dal consumatore, sul consumatore, a contatto con il consumatore, in autocertificazione. Perché sappiamo com'è la normativa. È previsto il post market survey da parte delle autorità. Non è previsto un'approvazione preventiva. Ovvio che anche la impalcatura normativa deve tenere conto di questo e le sanzioni devono essere deterrenti, soprattutto, perché non potendo controllare tutte le autorità devono dare delle garanzie al consumatore. Quindi su questo abbiamo un ottimo livello di sicurezza e in costante miglioramento, però grazie a tutte le attività. Le aziende, per garantire la sicurezza dei prodotti, lo sappiamo perfettamente, investono delle cifre molto importanti. Test, controlli, verifiche, le norme di buona fabbricazione. Le norme di buona fabbricazione del cosmetico sono obbligatorie. Non è obbligatorio il certificas, è raccomandato, non è obbligatorio, ma se non applico le norme, perché è raccomandato certificarsi? Perché ho un ente terzo che mi fa la garante del supervisore, mi dà comunque una certificazione, un riconoscimento di qualcosa che io sono obbligato ad applicare. Tutto questo sempre nell'ambito cosmetico, quindi siamo entrati in una normativa specifica. Ecco come sono classificati i cosmetici per animali. Vedete, due bellissimi tipi di animali. A un convegno ho chiesto a un veterinario che era fra i relatori di dirci che specie fossero questi due animali, perché questo è il tipo di regolamento che si applica per i prodotti per animali. Lo stesso identico che si utilizza per lavare le automobili. Identico, stessi obblighi, stessi controlli, stessi requisiti. Da qui capiamo che c'è qualcosa che non va. Ed ecco in effetti un altro specchietto dove vi ho citato norme specifiche, ho parlato dei cosmetici, il mondo da cui vengo io, ma ce ne sono anche altri, come sono per esempio i biocidi, i repellenti per insetti, piuttosto che i dispositivi medici. Nell'ambito dei prodotti chimici di libera vendita, che non hanno assolutamente gli obblighi che hanno le norme specifiche, abbiamo la soda caustica, la candeggina, colla, fernici, disincrostanti, anticarcare e cosmetici per animali. È palese, no? La discrepanza. Le conseguenze è che i prodotti cosmetici per animali sono diverse le conseguenze di questo, a parte la non conoscenza, perché io sfido molti professionisti nella toilettatura, nella detergenza, distributori e quant'altro, a dimostrarci che sanno di questa situazione normativa, che è lacunosissima, è una lacuna gigantesca. I prodotti per animali oggi, mediamente, quello che vediamo sul mercato, sono validi, sono prodotti fatti come si deve, ma per buona coscienza delle aziende. Perché? Perché non sono previsti gli obblighi che sono previsti per i cosmetici umani. Ed è abbastanza paradossale, perché innanzitutto il prodotto cosmetico per animali, intanto abbiamo una motivazione etica, nel senso che gli animali sono esseri viventi. E sono esseri viventi, parliamo di animali da compagnia, in questo caso, che ci fanno compagnia non volendolo. Non è che il cane decide di diventare il nostro cane, il nostro gatto, e sono nelle nostre mani, per cui non hanno la possibilità di scegliere, sto dicendo delle banalità totali, però giusta la riflessione, non hanno la possibilità di scegliere i prodotti, di dire no, guarda, e soprattutto non possono dire ci mi sta bruciando la pelle, mi dà fastidio. Come segnalano il fastidio, perché il prodotto non è esattamente idoneo, si leccano come dei forsennati, finché non si procurano delle piaghe, per esempio. Quindi gli animali sono una categoria di esseri viventi, gli animali da compagnia, che è asservita a noi, sostanzialmente, ed è in difesa, per cui un po' come fossero dei bambini, da un certo punto di vista. Sono i genitori a scegliere i prodotti, sono i gettori che li applicano, come per i bambini, sono i genitori stessi che sono esposti, perché finché io non trovo un cane capace di farsi la doccia da solo, avrò qualcuno, o il padrone del cane, o il tolettatore, che si espone. non c'è problema, si barderà come si deve, si mette i guanti, mi dicono, perché io non faccio il tolettatore, che è praticamente impossibile lavare un cane con i guanti, perché si impigliano nel pelo. Quindi, e poi se anche avessi i guanti, comunque, se io lavo 35 cani al giorno, con lo shampoo che schizza da tutte le parti, non posso parlare di contatto accidentale, l'esposizione del prodotto cosmetico per animali, principalmente per la detergenza, è un'esposizione che riguarda assolutamente anche le persone, quindi anche questo ci fa scattare qualche molla. non solo. Un'altra conseguenza di questa lacuna non tanto conosciuta, non tanto diffusa, non tanto messa a fuoco, è una situazione equivoca, nel senso che vediamo sul mercato i prodotti cosmetici per animali. I prodotti cosmetici per animali normalmente sono vestiti, presentati, etichettati, come cosmetici per esseri umani, quelli per animali. In teoria non dovrebbero, perché in teoria dovrebbero avere i pittogrammi, no? Uno mi può dire, il pittogramma non è mica detto che debba essere per forza obbligatorio, cioè se io riesco a dimostrare che non c'è nessun tipo di pericolo, lo devo dimostrare, no? Mediante o calcoli o test specifici, l'acqua minerale non è mica il pittogramma, in parte va beh il discorso food, ma se io compro l'acqua distillata, no? A supermercato non è nessun pittogramma, certo è acqua, no? Quindi chi mi vieta, no? Di mettere in commercio dei prodotti che grazie al cielo non ricadono in un obbligo di elichettatura. In realtà questo nella maggior parte dei casi non è vero, nel senso che se io prendo uno shampoo di qualunque tipo per via dei componenti, facendo semplicemente i calcoli previsti dalla normativa CLP, io dei pittogrammi spesso li dovrei mettere, no? Poi il discorso dell'inci, l'elenco degli ingredienti, che tutti i cosmetici per animali hanno, beh, quello non è mica vietato metterlo, anche se non dovuto. In realtà quello che succede è che siccome in un modo o nell'altro la totalità dei prodotti cosmetici per animali sul mercato sono presentati come cosmetici umani, questo comunque crea un equivoco. E soprattutto dovuto a questo il fatto che la maggior parte dei consumatori, dei professionisti, dei toletatori non si pongono al problema, comprano lo shampoo per il cane e vedono che è identico come presentazione allo shampoo per gli esseri umani. Automaticamente questo fa pensare che ci sia una normativa analoga, cosa non vera, no? Questo crea delle discrepanze. Poi le aziende, a noi capita spesso nel settore, ci contattano le aziende e dicono mi hanno chiesto di fare un prodotto per animali, no? Ma come lo devo etichettare? Dovrei applicare il CLP, ma non lo fa nessuno, voglio essere l'unico a farlo, e teoricamente dovresti farlo. Però questo è una delle tante conseguenze del fatto che la normativa non esiste, non esiste una normativa specifica, si ricade in una normativa generica dei prodotti di libera vendita che è assolutamente inadatta, è lacunosa. Quindi ci siamo posti il problema, no? Io per primo, poi ho coinvolto in questa idea, esperti, veterinari, tossicologi, esperti di zoologia, ci siamo confrontati e abbiamo iniziato da subito a collaborare, quasi subito, appena partito il progetto, con Buro Veritas, e abbiamo pensato a una soluzione, a una possibile soluzione, perché le entità esposte sono tante, gli animali in primis, perché ci sono, la maggior parte dei prodotti, in realtà sono serie, in realtà fatti da aziende serie, sul mercato abbiamo tantissimi prodotti realizzati da produttori in conto terzi, o da aziende italiane, o anche europee, qui in Italia noi abbiamo, un fior all'occhiello, mai abbastanza valorizzato, abbiamo un comparto di conto terzisti, che è una macchina da guerra, infatti vengono dall'estero anche, non solo make-up, ma anche la cosmesi bianca, anche la tricologia, e questo è un grande vantaggio, molti direi, a occhio la maggior parte, dei prodotti che si vedono sul mercato, in realtà sono prodotti, che seguono una filiera cosmetica umana, a questo punto mi chiedo, se è così, perché non valorizzarli, di fatto in realtà, abbiamo l'e-commerce, abbiamo la possibilità di comprare prodotti, che vengono direttamente dall'estero, cross border, quindi oggi se uno vuole andare a spendere poco, trova sui vari marketplace, e sia dei prodotti che vengono direttamente da fuori Europa, il singolo consumatore può comprare il singolo prodotto, a quel punto può essere assolutamente non controllato, la cosa grave è che, se un'azienda mi vende un prodotto a basso costo, che viene dall'estero, non ben controllato, se ha un cosmetico rischia grosso, perché è un'importazione, è regolamentata in maniera molto rigorosa, purtroppo la stessa cosa, non si può dire per il prodotto per animali, io posso importare un prodotto per animali, che può contenere impurezza, può essere pericoloso, può essere nocivo, può essere irritante, banalmente molto irritante, senza violare nessuna normativa, questo è grave, anche perché sul mercato è chiaro che, se io ho una massa di prodotti, di buon livello qualitativo, realizzati da aziende, che hanno tutte le certificazioni cosmetiche, quindi che hanno investito in questo, e sarà un prodotto sicuramente non di primo prezzo, ovunque avrà un ricarico, per via dei controlli che vengono fatti, a fronte di altri prodotti, che possono essere venduti, senza nessun ricarico, ma soprattutto senza violare nessuna normativa, cioè senza prendersi alcun rischio, quindi in tutto questo, io vedo un rischio per gli animali, perché sono esposti a questo, esposti perché posso mettere sul mercato, dei prodotti a basso costo, a basso livello qualitativo, potenzialmente rischiosi, senza correre nessun rischio, rischio per le persone, gli esseri umani, non solo gli animali, che vanno giustamente rispettati, ma anche gli stessi proprietari, autolettatori, le aziende, le aziende perché, o aziende che giustamente investono, perché sono abituate a farlo, perché è la loro forma mentale, perché hanno già i requisiti che servono, ma si trovano a combattere commercialmente con altre aziende che invece hanno potuto tagliare tutti questi costi, quindi possono essere molto più competitivi facendo una concorrenza sleale, da questo punto di vista. Per questo, andiamo pure avanti anche con la slide successiva, quello a cui abbiamo pensato è stato un disciplinare, quindi una certificazione su base volontaria, le normative non ci sono e per via anche delle mie frequentazioni in vari working group, in Commissione Europea, ho constatato che purtroppo ci sono altre priorità, quindi una normativa specifica che riguarda prodotti per animali non è all'orizzonte, assolutamente, non è assolutamente in agenda, e considerando le tempistiche che noi abbiamo in Europa, questo vuol dire che non avremo una normativa specifica per ancora diversi anni. Ecco perché in un momento come questo, per poter tutelare al tempo stesso le persone, gli animali e le aziende, abbiamo pensato a disciplinare che in linea teorica è molto semplice, perché abbiamo una normativa che è quella dei cosmetici per esseri umani, che è molto ben strutturata e che ci dà tantissimi spunti, a questo basta aggiungere alcuni elementi perché dobbiamo tenere conto di un'esposizione verso l'essere umano, ma un'esposizione principale e prevalente verso l'animale, quindi basta, è sufficiente aggiungere un know-how, un razionale che tenga conto di questo per avere già un quadro estremamente rassicurante. Ovviamente, essendo un disciplinare, essendo una forma volontaria di autodisciplina, uno degli obiettivi è anche aiutare il consumatore a distinguere i prodotti che possono vantare questo livello qualitativo, perché altrimenti sono tutti vestiti uguali, altrimenti è indistinguibile, no? E infatti abbiamo creato un bollino ad hoc, come si fa con tutte le certificazioni, che è questo che vedete in questa slide. Quindi, in questo momento, siamo in una fase di diffusione del verbo, perché, come ho detto in premessa, uno dei grossi problemi è la non percezione e la non consapevolezza da parte dei consumatori. Le aziende, no, cioè le aziende che producono non lo sanno, perché anzi, sono le prime che si pongono il problema quando hanno l'opportunità di produrre per animali, prima cosa fanno? Chiedono, ma qual è la normativa vigente? E poi cascano dal pero quando scoprono che non c'è la normativa, no? Però, fra consumatori, ma anche professionisti, esperti, non esiste questa consapevolezza, quello è l'obiettivo numero uno. Poi, noi abbiamo sviluppato insieme a Bulo Veritas con la grande credibilità che a Bulo Veritas questo disciplinare, questa certificazione, che oggi viene comunque realizzata da Bulo Veritas, quindi è un tipo di certificazione che, attenzione, non è un'autocertificazione, ma non è neanche una certificazione di parte seconda, è una certificazione di parte terza, perché abbiamo un ente terzo che va a verificare che le aziende applichino quello che è stato definito in questo disciplinare. Quindi, secondo me, è uno strumento estremamente interessante, spero che intanto possa diffondersi, no? Intanto la consapevolezza di questo problema, perché una volta raggiunta la consapevolezza di questo problema, perché è un problema, credo che il disciplinare e questo tipo di programma di certificazione potrà sicuramente crescere molto come diffusione o come interesse e noi ne saremmo felici perché ci stiamo credendo, ci crediamo molto e soprattutto credo che possa anche, da un lato, aiutare il consumatore in una scelta più consapevole, aiutare le aziende a valorizzare quello che hanno investito, perché è l'investimento in qualità e in sicurezza, un investimento che costa ed è giusto valorizzarlo, ma anche possa servire da stimolo a chi ancora oggi è orientato verso un lavoro a basso livello qualitativo, a risparmio, diffondendosi questo tipo di certificazione e alcune di queste saranno sicuramente indotte a incrementare il loro livello qualitativo nell'interesse di tutti, perché comunque in Italia cosmetici per animali come per esseri umani noi siamo i, cavalchiamo il concetto dei cosmetici di alto livello, di alta qualità, che non vuol dire alto costo. In tutti i target, in tutti i canali il Made in Italy Cosmetico è un'eccellenza e la vogliamo mantenere, la manteniamo e perché no questo è un modo anche per valorizzare la nostra eccellenza anche nell'ambito dei prodotti per animali che per inciso sta crescendo in maniera spropositata. Bene, ho finito la mia parte poi per gli aspetti un po' più tecnici come funziona la certificazione lascio naturalmente la parola a chi è molto più bravo di me che è Sara in questo caso. Ringrazio tutti. Grazie, grazie Matteo, grazie per questa panoramica per quello che è il contesto normativo che poi abbiamo visto che non c'è, un contesto normativo specifico per quanto riguarda i prodotti cosmetici per animali e quindi proprio in questo contesto abbiamo visto che si inserisce questo disciplinare Safe Pet Cosmetics e quindi di conseguenza anche l'idea di certificazione a fronte di questo disciplinare. Come già un po' anticipato Matteo, questo disciplinare è innanzitutto di proprietà di Angel Consulting, quindi nasce da un'idea di Matteo Zanotti che ha appunto coinvolto poi un panel di esperti in ambito di cosmetologia e in ambito veterinario e ha messo a punto questo disciplinare, questo disciplinare è un disciplinare volontario, quindi chiaramente le aziende possono in maniera del tutto volontaria decidere di aderire a questo disciplinare e perché dovrebbero farlo, perché diciamo attraverso la certificazione a fronte del disciplinare Safe Pet Cosmetics le aziende più virtuose possono distinguersi sul mercato, possono distinguere i loro prodotti sul mercato attraverso la posizione del bollino e chiaramente le aziende certificate possono dare garanzia ai consumatori che i prodotti che sono coperti dalla certificazione Safe Pet Cosmetics hanno un elevato grado di sicurezza per appunto gli animali a cui questi prodotti sono destinati paragonabile a quanto atteso per l'uomo perché appunto come per l'uomo viene preso come riferimento il regolamento che nel caso umano è chiaramente ecogente per l'immissione di prodotti cosmetici sicuri allo stesso modo viene preso come riferimento il regolamento 1223 quindi il regolamento per cosmetici umani naturalmente riadattandolo al campo animale e anche diciamo nel caso della disciplinare Safe Pet Cosmetics si garantisce l'emissione in commercio di prodotti sicuri per gli animali quindi il disciplinare Safe Pet Cosmetics Cosmetics chiaramente è il documento di riferimento per l'ottenimento della certificazione la certificazione viene rilasciata in questo caso a seguito di attività di verifica svolte da un organismo di certificazione come Buro Veritas in realtà Buro Veritas attualmente è l'unico organismo di certificazione riconosciuto per il rilascio della certificazione Safe Pet Cosmetics che andrà appunto a verificare che le aziende che producono i prodotti cosmetici per animali siano conformi ai requisiti definiti dal disciplinare stesso al termine della verifica quindi all'ottenimento della certificazione l'azienda ottiene anche il diritto all'utilizzo del marchio Safe Pet Cosmetics sui prodotti cosmetici certificati quindi come dicevo prima mancando una normativa specifica per questo tipo di prodotti il disciplinare Safe Pet Cosmetics si tra virgolette ispira al regolamento 1223 del 2009 che sappiamo tutti essere il regolamento specifico per i prodotti cosmetici per umani chiaramente sono stati selezionati alcuni articoli di questo regolamento applicabili al settore cosmetico per animali e alcuni sono stati presi tal quali dal regolamento altri sono stati leggermente integrati o modificati proprio per adattarlo adattarli ai prodotti cosmetici per animali sostanzialmente il disciplinare prevede una serie di requisiti di prodotto quindi che i prodotti devono rispettare diciamo per quanto riguarda la loro composizione diciamo così e poi ci sono dei requisiti come vedremo successivamente di sistema questa in questa slide sono elencati gli articoli del regolamento 1223 del 2009 dei cosmetici per umani applicabili al che sono stati selezionati quindi applicabili ai cosmetici per animali con l'identificazione di alcune piccole integrazioni o modifiche per adattarli ai prodotti cosmetici per animali allora partiamo l'articolo 1 e l'articolo 2 sono due articoli di carattere generale quindi sono introduttivi parlano dell'ambito di applicazione gli obiettivi e delle definizioni questi articoli possono essere applicati al settore cosmetico per animale senza nessuna integrazione o modifica poi è applicabile l'articolo 3 sulla sicurezza il regolamento 1223 dice che i prodotti immessi sul mercato dell'Unione Europea prodotti cosmetici per umani naturalmente immessi sul mercato devono essere prodotti sicuri chiaramente l'unica variazione nel nostro caso è che i prodotti cosmetici per animali dovranno essere sicuri nel nostro caso specifico per l'animale e non per l'uomo come nel caso del regolamento poi altro articolo applicabile è l'articolo 4 relativo alla persona responsabile nel regolamento si dice che le aziende che immettano nel mercato europeo un prodotto cosmetico devono designare una persona fisica giuridica come persona responsabile che ha sostanzialmente la funzione di assicurare che vengano rispettati gli articoli i requisiti cogenti e poi è la persona che si interfaccia e coopera con le autorità competenti nel caso nostro quindi nel caso dei cosmetici per animali chiaramente non non ci sono degli obblighi cogenti comunque è richiesta l'identificazione la disegnazione di una persona responsabile che dovrà interfacciarsi nel nostro caso non più con le autorità competenti le autorità sanitarie ma con l'organismo in certificazione al quale dovrà segnalare eventuali eventi avversi dovrà mettere a disposizione la documentazione pertinente eccetera stessa cosa per l'articolo 5 quindi per quanto riguarda gli obblighi delle persone responsabili nel caso del cosmetico per animali naturalmente tutti gli obblighi tutti gli obblighi relativi alla persona responsabile dovranno essere nel nostro caso in relazione non alle autorità competenti ma in relazione all'organismo di certificazione articolo molto importante è l'articolo 8 relativo alle buone pratiche di fabbricazione il regolamento 1223 dice che nella produzione di prodotti cosmetici per umani le aziende devono applicare le buone pratiche di fabbricazione questo regolamento questo articolo del regolamento 1223 si applica senza nessuna integrazione e modifica quindi in maniera integrale al caso dei cosmetici per animali dove sono descritte le buone pratiche di fabbricazione il regolamento 1223 dice che le aziende nel dimostrare la conformità alle buone pratiche di fabbricazione devono riferirsi alle pertinenti norme armonizzate e la norma armonizzata a regolamento relativa alle buone pratiche di fabbricazione è la norma ISO 22716 è una norma ISO una norma internazionale che definisce i requisiti per le buone pratiche di fabbricazione dei cosmetici umani la stessa norma viene presa in 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 considerazione per dimostrare la conformità alle buone pratiche di fabbricazione anche nel caso dei prodotti cosmetici per animali altro articolo applicabile è l'articolo 10 l'articolo relativo alla valutazione della sicurezza anche nel caso dei cosmetici per animali deve essere valutata la sicurezza di questi prodotti quindi le aziende dovranno tenere in considerazione gli aspetti di nocività tossicità di questi prodotti in relazione naturalmente agli animali a cui questi prodotti sono destinati e ciò che è richiesto alle aziende che si vogliono insomma certificare è quello di redigere un razionale di giustificazione per la valutazione della sicurezza e devono essere in questo razionale in questa relazione devono essere anche identificate le competenze della persona esperta incaricata nella redazione della relazione di sicurezza chiaramente le competenze devono essere in ambito veterinario in ambito cosmetologico comunque sempre inerenti al settore veterinario poi ci sono una serie di articoli 11 14 15 fino di 19 20 che sono applicabili senza nessuna integrazione e modifica anche al campo animale questi articoli riguardano l'etichettatura la sperimentazione animale le sostanze cancerogene mutaggine tossiche per la riproduzione eccetera questi articoli si applicano tal quali anche ai coprodotti cosmetici per animali infine abbiamo l'articolo 23 relativo alle informazioni sugli effetti indesiderabili e sugli effetti indesiderabili gravi in questo caso diciamo non essendo obbligatoria una vigilanza post market nel nostro caso nel caso di cosmetici per animali è richiesto che le aziende l'azienda si strutturi e preveda un programma di vigilanza in maniera autonoma e che tutti gli eventuali eventi avversi rischi legati al prodotto in questo caso non saranno comunicati alle autorità sanitari le autorità competenti perché non c'è nessun obbligo di legge per questo tipo di prodotti ma dovranno essere comunicati all'organismo di certificazione che potrà esaminare questi dovrà prendere in carico la segnalazione esaminare queste segnalazioni ed eventualmente con il coinvolgimento di esperti del settore valuterà il tutto e potrà decidere se è necessario revocare la certificazione o meno per quel particolare prodotto e poi naturalmente ce l'ha legato uno sulla relazione della sicurezza del prodotto come abbiamo visto prima deve essere l'azienda deve descrivere in che modo con quali strumenti la persona incaricata dalla valutazione della sicurezza può effettivamente abbia effettivamente le competenze per valutare la sicurezza per l'animale quindi questi sono tutta una serie di requisiti di prodotto che l'azienda deve diciamo alla quale l'azienda alle quali l'azienda deve attenersi per dimostrare la conformità dei prodotti dei loro prodotti rispetto al disciplinare oltre a questi requisiti di prodotto ci sono anche dei requisiti detti di sistema ovvero l'azienda deve dimostrare di avere un sistema aziendale un sistema di gestione controllato secondo i requisiti della norma di riferimento quella che più diffusa e più comune che è la norma ISO 9001 o come dicevamo prima la norma ISO 22706 che è un po' più specifica del settore cosmetico cosa vuol dire avere un sistema di gestione vuol dire disporre di un sistema documentato quindi di procedure di registrazioni di controlli deve come richiesto dalla norma autocontrollarsi quindi deve a intervalli regolari pianificare degli audit interni deve registrare non conformità gestire reclami eccetera quindi deve essere conforme sostanzialmente a queste norme ISO di riferimento e naturalmente deve essere un sistema orientato alla trasparenza e al miglioramento continuo oltre a questo cosa richiesto ovviamente ma mi sembra abbastanza quasi scontato l'azienda deve dimostrare di avere una politica aziendale orientata al rispetto dell'animale e della loro salute quindi questo è diciamo più una conformità etica rispetto a quello che è anche l'obiettivo finale del disciplinare deve l'azienda deve anche definire le modalità di ricerca e sviluppo dei nuovi prodotti quindi come dicevamo prima deve anche diciamo descrivere come vengono identificate le competenze coinvolte per la dimostrazione della sicurezza dei prodotti cosmetici che l'azienda produce o comunque che l'azienda vuole insomma che vengono coperti dalla certificazione e una cosa molto importante l'azienda deve dimostrare di controllare tutta la filiera produttiva perché molto spesso l'azienda che insomma è responsabile del prodotto si avvale molto spesso di conto tertisti quindi affida la produzione parte della produzione è una produzione completa a fornitori esterni in questo caso deve dimostrare di avere sotto controllo anche la filiera ad esempio facendo degli audit di seconda parte presso i suoi i suoi fornitori come quali sono i passaggi per ottenere la certificazione passaggi diciamo molto semplici un po' li abbiamo descritti in precedenza l'azienda che vuole ottenere la certificazione innanzitutto può far riferimento come documento per l'ottenimento della certificazione al disciplinare set pet cosmetics fa una richiesta di certificazione una domanda di certificazione a a buroveritas che valuta la domanda e mette in preventivo e una volta accettato il preventivo si può partire con le attività e in questa prima fase viene valutata la documentazione relativi la documentazione tecnica relativa ai prodotti e anche ai documenti di sistema una volta superata questa prima fase documentale c'è una fase e una seconda fase in campo quindi buroveritas sostanzialmente manderà presso l'azienda un nostro valutatore che verificherà i processi produttivi quindi verificherà la conformità e l'implementazione del sistema di gestione e redigerà un rapporto eventualmente se ci sono dei delle situazioni non conformi verranno segnalate le non conformità che l'azienda poi si impegna a gestire e comunque al termine della verifica se questo avrà avuto un esito positivo il comitato tecnico delibera decide per l'emissione del certificato il certificato naturalmente conterrà la lista dei prodotti coperti dalla certificazione che verranno naturalmente identificati nella prima fase iniziale di domanda quindi è importante che l'azienda identifichi la lista dei prodotti che verranno coperti dalla certificazione e questi solo ed esclusivamente questi prodotti avranno poi il diritto di esporre il bollino sulla loro confezione il certificato che verrà emesso avrà una validità triennale e per mantenerlo attivo verranno eseguite annualmente quindi a distanza di 12 e 24 mesi dalla verifica iniziale di certificazione verranno svolte delle verifiche di cosiddette di mantenimento al termine dei tre anni poi l'azienda può decidere se rinnovare o meno la certificazione allora quali sono i vantaggi li abbiamo visti un po' prima ma li riassumiamo in questo slide gli vantaggi derivanti dalla certificazione di aspetto cosmetics è quella di innanzitutto consentire alle aziende più virtuose di dimostrare il loro impegno nella produzione di prodotti sicuri per l'animale e poi abbiamo visto anche per l'uomo perché come diceva Matteo anche l'uomo è costantemente esposto a questo tipo di prodotti quindi chiaramente questo tipo di prodotto saranno sicuramente sicuri per l'animale ma poi anche per l'uomo possono garantire quindi anche questa certificazione può anche garantire visibilità a queste aziende che attuano una politica orientata rispetto dell'animale e della loro salute e grazie appunto alla posizione del bollino Safe Pet Cosmetics sui prodotti consente al consumatore un acquisto consapevole quindi di individuare facilmente i prodotti che possono garantire un elevato livello di qualità e sicurezza per i loro animali il marchietto Safe Pet Cosmetics l'abbiamo visto prima è questo qui è un marchio di proprietà di Angel Consulting che è anche diciamo proprietario del disciplinare e all'ottenimento della certificazione l'azienda acquisisce anche il diritto di utilizzare il marchio l'utilizzo del marchio è regolamentato sempre all'interno del disciplinare e sostanzialmente il marchietto può essere esposto sui prodotti coperti dalla certificazione ma anche su materiale pubblicitario e altri supporti comunque è tutto descritto nel disciplinare nel disciplinare stesso ok con questo diciamo abbiamo un po' chiuso la 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 parte relativa al disciplinare Safe Pet Cosmetics ora passiamo ad un altro disciplinare sempre relativo al settore cosmetico per animale ma un disciplinare che ha un po' più un taglio più orientato e con compatibilità applicata ai prodotti cosmetici per animali facciamo una piccola premessa come sappiamo tutti la società consumistica odierna ha un forte impatto sull'ambiente però al tempo stesso soprattutto diciamo recentemente si è sviluppata una maggiore sensibilità da parte delle aziende ma soprattutto conseguentemente anche del consumatore si è sviluppata una maggiore attenzione per quello che sono gli aspetti di impatto ambientale e sostenibilità quindi il consumatore molto spesso orienta il proprio acquisto anche sulla base di della sua scelta etica e sull'identificazione di prodotti che siano in linea con questa sua scelta etica di riduzione dell'impatto ambientale e di sostenibilità ed ecocompatibilità ed è per questo che si inserisce la certificazione come abbiamo detto prima la certificazione colma un vuoto normativo e può essere diciamo lo strumento di riferimento che possono adottare le le industrie per insomma dimostrare attraverso una certificazione rilasciata da un ente di parte terza indipendente che effettivamente i prodotti che queste producono siano effettivamente abbiano le caratteristiche effettivamente di ecocompatibilità e che siano effettivamente prodotti bio in relazione ad uno standard di riferimento nel nostro caso lo standard di riferimento è detergenza pulita AIAB uno standard che è di proprietà AIAB che è la associazione italiana per l'agricoltura biologica ed è scaricabile graficamente dal link che è presente in questa slide quali prodotti rientrano in questo disciplinare sono coperti da questo disciplinare sono coperti prodotti detergenti prodotti detergenti si intende detertivi detergenti per la pulizia domestica questi prodotti detergenti sono identificati dal logo bio eco detergenza AIAB che è l'ultimo rispetto alla ai trelloi a destra sono inclusi i prodotti per la profumazione ambientale che sono quindi i profumi ambienti candele profumate deodoranti per ambienti sempre eccetera e questi sono identificati dal logo bio eco profumazione e infine sono anche inclusi i prodotti cosmetici per animali che sono identificati dal logo bio eco pet care che è quello che vediamo in alto a destra anche in questo caso la certificazione consente l'utilizzo del marchio apposto sui prodotti certificati che diciamo garantisce un facile identificazione dei prodotti certificati e quindi un acquisto consapevole da parte del consumatore quali sono i principi fondamentali di questa certificazione il primo è quello di favorire l'impiego di materie prime da agricoltura biologica poi quello di promuovere l'utilizzo di materie prime naturali quindi provenienti da agricoltura biologica non OGM e non sottoposti sottoposti a radiazioni ionizzanti poi altro principio è quello di garantire l'assenza di microplastiche all'interno delle formulazioni dei prodotti certificati garantire requisiti di compatibilità in termini di materie prime processi produttivi e packaging e poi chiaramente l'ultimo aspetto è quello di garantire prodotti che possano nuocere il meno possibile alla salute umana e quindi animale e quindi di conseguenza anche umana come abbiamo visto prima quali sono diciamo i requisiti i requisiti sono innanzitutto all'interno del disciplinare nell'allegato uno sono identificati una serie di ingredienti da considerare nella valutazione dei profumi impiegati poi altro aspetto molto importante per i prodotti per la cura degli animali è il peso dell'impatto ambientale di ciascun ingrediente questo questo questa valutazione viene identificata con il volume critico di diluzione la cui formula poi è chiaramente descritta nel disciplinare che si applica sia agli ingredienti utilizzati sia poi al prodotto cosmetico finito e questo valore non deve superare alcuni limiti nel caso di prodotti a risciacquo per la cura degli animali non deve superare il valore di duemila nel caso di prodotti senza risciacquo non deve superare il valore di mille poi altri requisiti sono che devono nella formulazione del prodotto ci deve essere almeno un ingrediente di origine biologica e deve essere chiaramente identificato nell'etichetta sono ammesse profumazioni sintetiche solo in conformità alla lega Q1 del disciplinare nella nella scelta dell'imballaggio chiaramente devono essere ci deve essere una riduzione possibile dell'impatto ambientale dovuto agli imballaggi sia in termini di materiali quindi si promuovono materiali riciclabili materie prime rinnovabili o ad esempio un un imballaggio che può essere riutilizzato vengono sicuramente esclusi imballaggi in PVC e bacchelite poi come abbiamo già detto prima non devono essere utilizzati ingredienti EGM non devono essere utilizzate piante in via di estinzione e non devono essere sia ingredienti che prodotti sottoposti ad irraggiamento altri aspetti altri requisiti sono che non sono ammesse sostanze potenzialmente bioaccumulative una sostanza è considerata bioaccumulativa quando il fattore di bioconcentrazione è superiore a 100 o il coefficiente di ripartizione otanolo acqua è superiore a 3 poi chiaramente la biodegradabilità dei tenzi attivi deve essere documentata e infine il prodotto finito deve contenere il 95% in peso di ingredienti di origine naturale inclusa anche l'acqua per le formulazioni anidre comunque in polvere questo requisito non è non è richiesto allora io avrei concluso la mia presentazione vi ringraziamo per la partecipazione qui trovate i nostri riferimenti e possiamo eventualmente vedere se ci sono delle delle domande eccomi qua ce ne sono ce ne sono parecchie allora iniziamo dalla prima dice Matteo per Matteo questa è una domanda in Italia per i cosmetici per animali è possibile avere biocidal claims secondari in questo caso il prodotto ricadrebbe ancora sotto la lcp regulation invece che la bpr si avevo già iniziato a vedere un pochino le domande che stavano scendo tante interessanti ritengo di no ritengo di no perché la convivenza di claim biocidi nei cosmetici è possibile è regolamentata però in maniera abbastanza rigida ci sono linee guida dei prodotti borderline che sono soggette a costanti aggiornamenti e di volta in volta mano a mano che vengono pubblicati aggiornamenti a queste linee guida aumentano le restrizioni per cui in passato era possibile bastava che la claim biocida fosse solo secondario e quindi si è visto una diffusione abbastanza ampia dei solari anti meduse piuttosto che il dopo sole anti zanzare mano a mano che hanno aggiornato queste linee guida questo è diventato più rigido perché è ammesso nel cosmetico la doppia classificazione quindi se abbiamo determinati requisiti facili da raggiungere in cui cadere occorre procedere con la doppia certificazione cioè la doppia classificazione tutto questo però è regolamentato il prodotto cosmetico per animali formalmente è un prodotto di libera venta sarebbe come dire ti vendo l'alcol per pulire i pavimenti che è un prodotto di libera venta ma è anche un po' biocida è impossibile perché perché nel cosmetico viene difeso il concetto che ci può essere una funzione biocida secondaria ancillare al cosmetico dopo sole antizanzare in un prodotto di libera vendita che ricordo è classificato come quelli per pulire i paraurti delle automobili non esiste questa sostenibilità è inammissibile come posso pensare cioè per il regolatore il cosmetico per animali è uguale a quello che serve per pulire il cerchio della macchina non c'è spazio di manovra per poter aggiungere il creme biocida quindi la risposta secondo me è no no facendolo in maniera sana perché sono prodotti comunque in autocertificazione se uno vuole assumersi dei rischi lo può fare ma secondo me in caso di controllo ho la garanzia del 100% di contestazione nel caso del biocida perfetto un'altra domanda è questa si voleva sapere che valenza ha il disciplinare al fine di un controllo e che è l'organismo che può effettuare tale controllo magari Sara questa è la domanda per te sì allora come dicevamo il disciplinare in realtà è un disciplinare volontario quindi sostanzialmente non ha nessuna valenza di tipo insomma normativo non ci sono requisiti cogenti in questo caso quindi la valenza al fine di un controllo da parte di autorità non ha una valenza da questo punto di vista sostanzialmente questo disciplinare ha più una insomma un fine più comunicativo a livello di marketing di prodotto ma ai fini diciamo di controlli da parte di autorità competenti di requisiti cogenti sicuramente non ha non ha una valenza da questo punto di vista ok la prossima domanda chiedono indicazioni sulla certificazione safe pet cosmetics che è appena nata è già applicata da qualche brand e se è destinata ad essere applicata o applicabile anche all'estero quindi in Europa e anche fuori dall'Europa rispondi tu sempre possiamo rispondere Sara forse direi sì allora sicuramente è appena nata come dice la domanda sicuramente il nostro obiettivo la nostra ispirazione è che questo disciplinare questo marchetto si diffonda in Italia e anche all'estero è appena nata quindi attualmente abbiamo solo un'azienda che è stata l'azienda pilota che in realtà è ancora qui iter di certificazione è ancora in progress però in realtà è un marchio che sta incominciando a farsi conoscere abbiamo ricevuto diverse richieste ci sono diverse valutazioni da parte delle aziende quindi è chiaro che le potenzialità ci sono ma siamo proprio nella fase iniziale embrionale la nostra aspirazione è appunto quello di far crescere è certo dobbiamo far crescere il riconoscimento del marchio sia in Italia e sicuramente anche all'estero perfetto qui un'altra domanda ancora più pratica che formazione deve avere il valutatore di prodotti per animali qui entro io allora anche perché chiaramente mi fa piacere che ti sollevi la mia presentazione la nostra presentazione anche di Sara sollevi questi dubbi perché sono dubbi molto pratici molto tecnici il valutatore della sicurezza deve avere gli stessi requisiti del valutatore per cosmetici umani anche perché mentre nell'ambito del cosmetico umano abbiamo una figura che è ben definita si sa in che cosa deve essere laureato che tipo di esperienza deve avere c'è uno storico di 40 anni e lì andiamo veramente sul terreno solidissimo in ambito veterinario dobbiamo inventarci qualcosa dal nulla perché non esiste niente del genere il criterio che noi abbiamo adottato è quello del razionale scientifico cioè in questa fase in futuro sicuramente acquisendo esperienza strutturando coinvolgendo aziende sarà probabile sarà possibile anzi probabile andare a definire un profilo specifico ad oggi il passo quello che viene richiesto dal disciplinare l'intenzione è che l'azienda abbia un razionale scientifico cioè l'azienda non può prendere uno shampoo o peggio un detersivo per automobili e aggiungere due derivatini vegetali dice ma ci ho messo un tensiativo delicato dovrebbe andare bene questo è quello che disciplinare invece vuole prevenire il razionale scientifico ci deve essere il razionale scientifico può essere di diverso tipo se l'azienda si avvale di un supporto di un veterinario questo è già un ottimo passo oppure l'azienda può dimostrare di aver utilizzato delle formulazioni o degli ingredienti per i quali c'è un background scientifico specifico veterinario in buona sostanza non è richiesto un titolo di studio specifico non devo avere una laurea in veterinaria è richiesto che l'azienda dimostri un razionale scientifico che tiene conto dell'animale per ora in una versione allargata perché perché è già tantissimo è già un passo avanti importantissimo rispetto al progresso che è zero assoluto quindi nessun problema il punto critico è se l'azienda conosce già mastica già cosmetico umano è già un valutatore non avrà problemi salvo fatto che dovrà comunque in qualche modo attingere delle fonti scientifiche di un certo spessore e non avrà problemi i problemi li potrà avere l'azienda che fino a ieri faceva detersivi per i piatti e si inventa di fare il detersivo per Fidobello no lì dovranno dovranno in qualche maniera avvalersi di un valutatore umano e del razionale veterinario in quel caso il salto sarà molto maggiore ma è uno dei nostri riconoscere chi ha già il livello e stimolare chi non ce l'ha perché raggiunga quel livello rispetto a nulla la domanda successiva credo che sia identica perché chiedono per la valutazione della sicurezza è necessaria una competenza veterinaria oppure sono valide anche le conoscenze scientifiche legate all'ambito medico chimico cosmetico farmaceutico biologico quindi diciamo che abbiamo già risposto per quanto riguarda l'etichettatura invece chiedono è necessario seguire il regolamento cosmetico e tralasciare il CLP o sono necessari entrambi ma allora intanto diciamo che il regolamento CLP per i prodotti di libera vendita è un requisito cogente quindi il safe bet non entra nel merito non lo cita non lo tocca perché perché in teoria le aziende che vendono il prodotto per animali vendono un prodotto regolamentato da CLP e quindi in teoria dovrebbero applicare il CLP c'è un dato di fatto che nella realtà dei fatti oggi il 100% forse 99,9 dei prodotti sul mercato il CLP non lo applicano no noi non siamo voluti entrare in questo ambito perché intanto esula il nostro obiettivo cioè il nostro obiettivo non deve essere quello di costringere le aziende ad applicare la norma sulla sicurezza dei posti di lavoro le norme ambientali le norme le aziende le norme le devono applicare il nostro obiettivo è quello di riconoscere le aziende che realizzano dei prodotti che tutelano gli animali e gli esseri umani seguendo i criteri analoghi a quelli umani poi se un'azienda mi chiede io devo applicare il CLP e io gli rispondo la legge è quella la legge di applicare ma non è uno dei focus che noi andiamo a vedere però su questo Sara sicuramente può dare un input da questo punto di vista l'obiettivo nostro è focalizzato è molto focalizzato su questo tipo di aspetto in teoria il CLP andrà applicato questo sì vuoi aggiungere qualcosa Sara? passo la domanda successiva ok per i prodotti cosmetici chiedono per animali ovviamente non è necessario notificare l'immissione in commercio sul cpnp oppure sì? non solo in teoria non potrebbe poi per carità non esiste il reato come in altri ambiti esiste il reato di marcatura CE indebita no se io uso marchio CE in modo indebito incorro in problemi l'indebita registrazione cpnp non esiste il cpnp peraltro come quasi tutti sanno è indelebile è un blockchain io registro un prodotto mai lo potrò cancellare infatti è pieno di errori perché vogliono mantenere lo storico quindi fino ad oggi non è mai capitato che le autorità contestassero la presenza di prodotti indebitamente registrati perché anche volendo l'azienda non può cancellarlo se l'azienda lo registra beh fa una cosa non corretta ma non sanzionabile non non andrebbero registrate cpnp perché non sono cosmetici per esseri umani a meno che non ci sia un progetto di marketing dove l'azienda voglia vendere un prodotto cosmetico che è per essere umani e per animali in quel caso andrebbe registrato perché il prodotto la parte animale sarebbe un claim secondario altrimenti no non andrebbero registrato chiedono un'altra domanda chiedono i vostri contatti ma ripeto nelle slide che vi verranno mandate dopo alla termine del webinar ci saranno anche i vostri contatti quindi preparatevi perché mi sa che arriveranno parecchie parecchie domande passiamo alla penultima domanda e chiedono a livello normativo un laboratorio di produzione cosmetico quindi con codice ATECO specifico per prodotti cosmetici può produrre cosmetici per animali allora qui mi coglie impreparatissimo perché codice ATECO so che esistono conosco i miei però è una domanda da rivolgere al commercialista posso dirvi una cosa che onestamente non so se esiste il codice ATECO per laboratorio cosmetico o un codice differente rispetto a chi fa il detersivo per le automobili se esistono due codici differenziati vanno utilizzati entrambi se esiste un codice unico va bene quello tenete presente che comunque l'aggiunta di un codice ATECO questo lo so per esperienze recenti abbiamo seguito molte riconversioni durante il covid verso chi dovrà produrre gel cosmetici quindi un pochino abbiamo visto l'aggiunto la modifica di un codice ATECO può essere fatta entro 60 giorni dall'eventuale nuova attività e in modo assolutamente semplice indolore lo fa qualunque buon commercialista non è assolutamente un problema ricordo solo che il codice ATECO serve incide sugli studi di settore quindi va fatto entro 60 giorni ma se è sbagliato può provocare conseguenze nell'anno fiscale successivo perché in seguito a un controllo ho dichiarato un codice questo genere dei parametri di controllo dal punto di vista fiscale se uso un codice sbagliato induco a pensare che io voglio fare il furbo per far uscire dei parametri diversi tutto lì però materia fiscale io già mi viene un po' di disagio a parlare perché non è il mio settore però giustamente ecco quello che posso garantire è un non problema ultima domanda per l'emissione nel mercato considerandolo come cosmetico deve avere un pif ma la valutazione dell'esposizione tossicologica viene fatta sia su animale che uomo fate delle domande bellissime cioè complimenti veramente perché sono domande molto a fila o c'è qualche mio collega travestito che vuole già esperto che si sta divertendo no mi fa molto piacere mi fa molto piacere questo è un argomento molto 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 basso pieno di sfaccettature anzi anzi proprio uno dei temi più caldi esposizione tossicologica su animale allora teniamo presente che in teoria pensate un po' il prodotto cosmetico per animali potrete starlo su animali perché non è un cosmetico umano pensate un po' al paradosso quindi io potrei prendere le cavi coniglietti e fare il drys test sull'occhio sulla cute eccetera e poi venderlo per fidobello ora in realtà noi seguiamo la falsa riga del settore cosmetico umano teniamo presente che dal punto di vista del cosmetico umano si stanno facendo passi mostruosi da gigante dal punto di vista scientifico noi su questo cambio un attimo il capello ma perché siamo in tema stiamo assolutamente lavorando in questa direzione la commissione europea il comitato scientifico sta investendo delle energie mostruose lo dico perché ricade anche sul cosmetico umano nel cosmetico animale nel cosmetico umano giusto per citare questo discorso nell'ultima versione della linea guida che è la bibbia di come si fa un PIF come si fa la valutazione della sicurezza è la SCCS Notes of Guidance che è edita dal comitato scientifico in seno alla commissione europea e quindi la bibbia così come dice quello è il verbo sacro quindi quelle sono i dettami quelle sono le linee il valutatore è scritto proprio sulla linea guida non è una deduzione mia la linea guida dice così facciamo noi così ci aspettiamo che facciano i valutatori delle singole aziende bene in questa undicesima edizione che è stata pubblicata in marzo hanno inserito il Next Generation Risk Assessment che è un salto di livello come passare da una Panda a una Formula 1 perché il Next Generation qui apro tutta una parentesi è una struttura è una modalità un approccio scientifico fantascientifico che è nato dal 2015 in un progetto gigantesco internazionale è stato oggetto di un finanziamento europeo col programma settimo il Serrat One che ha visto coinvolgere i maggiori centri di ricerca le più grosse e multinazionali per obiettivo andare a eliminare completamente i test animali ma attenzione sono già vietati da anni ma sono stati utilizzati e riciclati vecchi test quindi ci si è un po' arrabattati per intenderci quindi si prendevano una molecola si andava a vedere il test animale di letteratura perché non si poteva replicare e si andava a cercare di vedere le similitudini con le molecole nuove oppure si andavano a testare su animali per altri usi per poi riciclare i risultati e per poterlo vendere in ambito cosmetico umano cioè c'era tutta una serie di tunnel di scappatoio di pezze no per poter bypassare il test animale questo progetto innovativo invece ha avuto un altro obiettivo che è quello di dare un supporto scientifico anche perché i test animali dal 2004 sui cosmetici non si possono fare più nelle materie prime 2009-2013 a seconda delle categorie e vivo di rendita cioè significa che riciclare i test animali di letteratura significa che di anno in anno mi baso su test sempre più obsoleti sempre più parziali l'obiettivo era quello di farne a meno completamente cioè data una molecola X neonata mai vista al mondo la domanda è o gli strumenti scientifici evitando di toccare qualunque animale per poter dire sì la metto in un cosmetico senza rischi la risposta è stata sì gli strumenti ci sono perché in questi anni sono state sviluppate delle tecnologie delle scientificità pazzesche l'applicazione di intelligenza artificiale le omiche studi in silico studi in vitro io stesso noi come gruppo manager consulting siamo partner di un progetto enorme si chiama Vermeer capofila Mario Negri e abbiamo creato una piattaforma che oggi è già disponibile si chiama Sfera Cosmo Life che va a collegare tutte le piattaforme in silico per cui dato una struttura molecolare si riescono a profilare tutte le varie proprietà positive e negative che può avere tutto questo per arrivare a dire che siccome dietro il cosmetico umano c'è questo lavoro pazzesco che sta portando dei risultati veramente incredibili che chiederanno alle aziende cosmetiche nei prossimi anni non è una cosa ad oggi a domani di fare un salto di livello incredibile dal punto di vista scientifico bene sul cosmetico per animali rimaniamo agganciati a questo quindi diventa un non problema nel senso che siccome è un prodotto di libera vendita il problema dal punto di vista puramente legale non si pone perché io sto facendo questo bisogna ricordarselo sto realizzando un cosmetico un detersivo per i cerchioni della macchina quindi se io chiedo alla ASL che mi viene a controllare scusi dovevo mica testarlo su animali quello si mette a ridere ma sta bene cioè mi misura la febbre perché dice io il testare su animali è che cosa una cosa con cui pulisco le gomme no e io sto facendo esattamente questo quindi è un non problema come requisito cogente dal punto di vista invece del voler fare le cose come si deve faccio finta che sia un cosmetico umano quindi dove siamo siamo in un punto di passaggio dove vecchi risultati vecchi test vecchi esiti no che venivano in qualche modo utilizzati riciclati mettendo pezze verranno non dico buttati via perché si tiene la letteratura ci mancherebbe ma lasceranno il posto a questi nuovi strumenti integrati che richiederanno alle aziende cosmetiche ripeto nei prossimi anni quindi calma no panic ma nei prossimi anni richiederanno alle aziende cosmetiche un salto di livello dal punto di vista scientifico incredibile perché se ci pensate non è una sfida da poco dire mi invento una nuova molecola mai vista sulla faccia della terra perché questo l'obiettivo sono chimico quindi io ho iniziato facendo questo tipo di lavoro dovevo inventare molecole l'ho anche fatto no bene poter dire la metterò dopo aver fatto tutta una serie di cose la metterò in uno shampoo la metterò in una crema per il viso e non ci saranno pericoli senza toccare un animale è una grande sfida una grande sfida però gli strumenti ci sono i risultati ci sono chi ha detto sì ok la mettiamo dentro la linea guida non è uno dell'azienda che l'ha sviluppato questo sistema o questa strategia l'imprimatura la benedizione a questo approccio è venuto dal comitato scientifico della commissione europea che ha detto sì va bene l'ha inserito nella linea guida si può fare così poi da lì a leggerla capire da che parte si legge come si mette in atto ci vorrà del tempo ma le aziende ne usciranno molto forti molto strutturate dal punto di vista scientifico è evidente che da questo punto di vista le associazioni e qui siamo ospiti del polo quindi niente di meglio le associazioni avranno un grande ruolo in questo perché il salto sarà talmente alto che le aziende andranno prese per mano da sole si fanno male se non sono multinazionali qui in Italia multinazionali ne abbiamo poche abbiamo tante aziende invece medie piccole dei gioielli a gestione familiare abbiamo delle aziende meravigliose anche se l'Italia medio piccola e le associazioni sicuramente avranno un bellissimo terreno in cui potranno aiutare queste aziende a livello consortile però questo è solo un'anticipazione quindi testo animali no problem per il futuro già oggi trattiamoli come cosmetici umani evitiamo di che è un problema sul prodotto per l'animale diventa diventa critico perché qualcuno mi dice nasce da lì poi il dubbio faccio lo shampoo per i cani e io lo testo sui cani posso dirlo è un campo minato è un campo minatissimo non posso testarlo sul cane poi di fatto alla fine lo userò sul cane ma è come è come lo shampoo io non è che lo testo sull'uomo quando uno mi dice ma la crema hai fatto il patch test attenzione non faccio il patch test per vedere se farà male no tant'è che qualunque laboratorio serio per poter accettare i campioni mi chiede la valutazione della sicurezza e infatti c'è qualcuno neofita che mi dice mi chiede la valutazione della sicurezza ma se io faccio il patch test apposta per vedere se è pericoloso come faccio a dichiarargli che non lo è non ci siamo capiti il test su persone il test su animali sul cane del mio shampoo per cane non è un test no io devo sapere già prima che non farà male all'uomo devo sapere già prima che non farà male all'animale poi posso dire che è stato approvato dall'associazione veterinari dopo che l'hanno usato sì ma non è un test attenzione quindi va visto sempre in questo modo ok grazie 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 grazie